Dopo dei titoli di testa con fastidiosi scarabocchi gialli che coprono le immagini, vediamo due loschi individui, Madame Piragna e il Dottor Wu, uno dei tanti, questo è quello nipponico, che stanno tramando. La tizia Piragna, infatti, è interessata all'elemento X, manco la fantasia minima per dargli un nome hanno avuto. E per estrarre questo misterioso elemento X dalle profondità di un vulcano, il Dottore, che fra parentesi ha la stessa voce di Shin o del Mago Pancione, ha costruito una copia robotica di Kong, quindi un mega robottone con le fattezze di un gorilla. Ma con tutti gli aspetti più fighi che potevano dare a un robot, tipo questo, questo o questo, proprio uno scimmione dovevate scegliere? Vabbè. Solo che questo robottone, anche se sembra essere dotato di un'intelligenza propria, in realtà non tanto, perché inizia a tirare degli esplosivi in un burrone ai suoi piedi e così anche la roccia dove si poggia si sgretola e lui cade come uno stronzo nel water. La missione fallisce e il Dottor Wu, dagli occhi a mandorla e i capelli più laccatissimi che mai, fa la sua figuraccia con Madame Piragna, che gli dice Mo non ti becchi più il becco di un quattrino, coglionazzo! Nel frattempo un sottomarino americano ha un piccolo contrattempo subacqueo e così si decide di riemergere e approdare sulla remota isola di Mondo. Elemento X, isola di Mondo, complimenti per i nomi. E su questa isola vive Kong, lo scimmione gigantesco di cui sopra, che non avendo un cazzo da fare tutto il giorno perché sicuramente lui il mutuo da pagare non ce l'ha, può tranquillamente dedicarsi alle due sue più grandi passioni, le esploratrici biondine e a zuffarsi con rettili giganti, e saccagnarli di legnate, e poi gongolare e vantarsi per la vittoria. E solo ora ho scoperto che nel King Kong di Peter Jackson, la scena dove Kong affronta il dinosauro e gli spezza la mandibola, è praticamente ispirata da questo film, nel senso che l'hanno copiata pari pari. Però anche questo film si ispira all'originale film in bianco e nero di King Kong, perciò è tutto un meccanismo di copie mascherate da citazioni. Comunque gli esploratori, capito che li tira una brutta aria, se ne vanno, ma un serpente marino li attacca, allora Kong chissà perché interviene, forse perché vuole farsene un collare, poi ovviamente tenta di impedire al sottomarino di andarsene, e inizia a sballottarlo, facendo venire la nausea ai marinai. Ma le scimmie non avevano paura dell'acqua? Boh, vabbè, fa niente. Siccome è la bionda la causa dell'affanno di Kong, lei coraggiosamente si offre di uscire e calmarlo, e gli parla, cerca di spiegargli come stanno le cose, aspettandosi che lui capisca. Deve essere demente! Ma incredibilmente lui capisce davvero e li lascia andare, rimanendosene in ammollo solo, depresso e sconsolato. Durante una breve conferenza stampa per svelare al mondo l'esistenza di questi mostri preistorici, i protagonisti rivelano di voler tornare sull'isola per studiare Kong nel suo ambiente. Ma anche Lady Piragna e il Dottor Testa Matta sono intenzionati ad andarci. E infatti bombardano lo scimmione con del gas soporifero e tentano di portarlo via con degli elicotteri. A parte il trascurabilissimo fatto che Kong peserà non so quante tonnellate, e quindi quattro elicotterini di merda non potrebbero sollevarlo nemmeno se ci fosse la forza di gravità che c'è sulla Luna. Ma vabbè, d'altronde nel film King Kong vs Godzilla, già riassunto da me poco tempo fa, lo sollevavano con dei palloncini, perciò... Comunque il portinaio dell'isola cerca di avvertirli di qualcosa, ma siccome parla una lingua incomprensibile, Testa Matta gli spara. E i buoni arrivano troppo tardi. Trovano però il vecchio portinaio che, nonostante si sia beccato tre pallottole mezz'ora fa, ha ancora il fiato per far fugliare qualcosa. Risvegliatosi nel laboratorio dei cattivi, Kong scambia il robot per uno della sua specie, e vorrebbe anche raggiungerlo. Ma non può, perché è incatenato a... a... a questo coso? Ma davvero? Ma come possono un blocco di cemento così piccolo e quelle catenine da bicicletta immobilizzare un gorilla alto 40 metri? Poi Kong viene ipnotizzato e mandato a scavare per recuperare questa famosa Materia X. Ma dopo un po' l'effetto dell'ipnosi svanisce e il piano di Testa Matta fallisce di nuovo. Poi, così, come se fosse la cosa più normale del mondo, i tre buoni dell'esercito piombano in tutta tranquillità nel covo dei cattivi. Ma scusate, voi sapevate dov'era? Boh, vabbè. Ma la cosa ancora più strana è che è stato proprio il Dottor Wu a invitarli. Andamo bene. Egli dice pure che ha intenzione di recuperare tutta la Materia X per conquistare il mondo. Allora sei deficiente. Poi però li fa rinchiudere, ma la Lady Piragna c'ha un debole per il comandante Carl, perché avrà intuito che lui è il detentore di una grossa mazza. Mica come il Dottor Wu che ci avrà il pistolino di un bambino. E infatti questi non la prende tanto bene. Poi fa prelevare Carl dalla cella e gli dice che ha lasciato gli altri due in una cella senza riscaldamento per farli morire di freddo. Insomma, lo sta ricattando per avere la sua collaborazione. E infatti guarda che sopracciglia minacciose che c'ha. Intanto Kong, anche egli imprigionato per punizione, si incazza e distrugge tutto e i nostri ne approfittano per dileguarsi. Ma il malvagio Dottor Wu gli manda contro il gorilla robot. Ma Kong furbamente si butta nelle acque gelide nordiche e nuota, nuota, nuota arriva fino in Giappone dove l'esercito è pronto a colpirlo con tutta l'artiglieria. Ma non appena il gorillone vede la biondina si calma. Ma ecco che arriva il Kong robot e i due quindi si scontrano. Uno scontro imbarazzantissimo che vi risparmio. Ma il robot poi cattura la ragazza e si arrampica sulla torre di Tokyo minacciando Kong di andarsene altrimenti la farà cadere. Il tutto con la voce del Dottor Wu. Ma Lady Piragna, pentita, gli punta la pistola e abbiamo un alterco anche qui. Perfino più imbarazzante di quello dei due scimmioni. Kong quindi si arrampica anche lui e riesce a salvare la ragazza e i due avversari si affrontano sulla torre e sembrano due bambini che litigano per chi deve salire per primo sulla giostra. Ma a furia di fare il pirla il robot cade e finisce in mille pezzi e Kong farebbe bene ad esultare in maniera un po' più intelligente se non vuole fare la stessa fine che già mi sembra attaccato alla torre per grazia di Dio. Ma che cacchio di posizione è quella? È attaccato per i piedi. Da che parte si guarda sta immagine? Boh, vabbè. Poi siccome il Dottor Wu cerca di scappare con la sua nave Kong lo raggiunge e la smonta pezzo per pezzo. Il cattivo muore male Kong se ne torna sulla sua isola e la biondina lo saluta con un po' di amarezza perché ormai forse si era innamorata. Fine! Un saluto e un grazie a Mattia Marco Pesci che mi ha regalato il DVD di cui trovate il link in descrizione se non volete perdervelo in quanto pezzo imprescindibile per la propria collezione di King Kong. E prima di chiudere come sempre un saluto a tutti i miei Patreons. I Cavalieri d'Oro Luciano Repetto Il Signore del Selfie Luca Di Leo Gervis Gerardo Crotti Andrea Algisi e Stefano Fusaro I Cavalieri d'Argento Davide Vaiani Giuseppe Dovidio Pietro Alemanno Gianluca Chasseur Federico Piana Francesco Di Pasquale Un saluto ovviamente anche a tutti i Cavalieri di Bronzo e ci vediamo alla prossima. Ciao!